Nella meravigliosa cornice dell'ex chiesa di Sant'Agostino sullo Stradone Farnese è in corso la diciottesima assemblea provinciale di Confapi, Industria Piacenza. Sono tornati a riunirsi gli industriali piacentini per un appuntamento importante perché cade al termine di un anno molto intenso per l'associazione e in un periodo, Presidente Giacomo Ponginibi, molto difficile, passata almeno in parte l'emergenza Covid, è arrivata la guerra, sono arrivati i rincari, è arrivata anche la siccità, che periodo è e come vi state difendendo? Ma guardi è un periodo dove sembra in effetti che ci sia la tempesta perfetta, non vogliamo ovviamente lanciare messaggi di negatività però ovviamente abbiamo come imprenditoria gli occhi e le orecchie ben aperte perché come diceva giustamente lei, prima l'anno si è aperto con una serie di criticità, di difficoltà veramente importanti. Il 2021 devo dire che si è chiuso bene, dove addirittura la gran parte delle aziende ha recuperato anche il gap che aveva accumulato nel 2020, il 2022 purtroppo si è aperto con queste incognite. Ovvio che sarà molto importante vedere cosa succede e soprattutto anche sul tema del conflitto bellico, in primis ovviamente dal punto di vista umanitario per non dimenticare le sofferenze che stanno vivendo gente e persone, ma anche dal punto di vista dell'industria. Il direttore Andrea Paparo nel corso della parte privata dell'Assemblea ha tracciato l'attività del 2021 e dei primi mesi del 2022, un'associazione in crescita ha colpito molto anche il dato legato alla formazione, un'associazione che nel solo 2021 ha formato, ha tenuto corsi per più di 2200 persone. Sì, siamo una realtà sana ed in crescita sia l'associazione che il nostro ente di formazione, ci teniamo a ricordarlo perché dal punto di vista dei servizi delle aziende è un po' il nostro fiore all'occhiello, ovviamente eroghiamo ogni tipo di servizio tipico dell'associazione in categoria, ma su quello ci teniamo a sottolinearlo. Abbiamo colto quindi l'occasione sia di approvare bilancio, come dicevo prima, quindi che fotografa questo tipo di situazione, ma anche di dare qualche informazione in generale sulle nostre attività. Due, i momenti salienti dell'Assemblea, innanzitutto il primo confronto dopo il voto di domenica tra Patrizia Barberi e Katia Tarasconi, le due candidate che andranno al ballottaggio per l'elezione di sindaco nella nostra città, il dibattito in corso ve ne daremo notizia, ve ne daremo reso conto nel TGL di domani e sul nostro sito liberta.it e poi in conclusione l'annuncio del presidente Giacomo Ponginibbi con FAPI Industria Piacenza avrà presto una nuova sede. Sì, lo annuncio con grande orgoglio, dopo il buon lavoro svolto in tutti questi anni, per cui ho ringraziato anche il past president Christian Camisa, l'associazione ha raggiunto una dimensione di imprese associate e una dimensione anche di servizi offerti, tali per cui siamo felici di annunciare che avremo una nuova casa, molto più moderna, più spaziosa e poi ovviamente avrà una bella visibilità anche in futuro. Grazie a tutti.